Grazie all'innovazione, le foreste svelano i loro segreti. Sotto la corteccia degli alberi si trovano rimedi innovativi ed efficaci. I composti chimici degli alberi permettono utilizzazioni che non avremmo immaginato prima. Materiali biodegradabili derivati dal legno possono sostituire le plastiche dannose, la graffite e le terre rare contenuti nelle batterie e creare nuove fibre sostenibili per contribuire a rinnovare l'industria della moda. La tecnologia sviluppa costantemente nuovi materiali sostenibili dagli alberi, sostanze che ci curano e materiali per costruire case e luoghi di lavoro immagazzinando a lungo termine il carbonio. L'uso dei droni sta aprendo nuove possibilità per la gestione e la protezione delle nostre foreste, aiutandoci a rilevare e combattere gli incendi boschivi, oltre a salvaguardare la biodiversità e gli ecosistemi fragili. Dalle foreste, nuove soluzioni per un mondo migliore. Grazie. Grazie. Grazie.